Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e siamo al nonno episodio della nostra serie dedicata a Silent Hill 4 Probabilmente sarà la serie su Silent Hill più lunga sul canale, perché questo titolo è molto molto longevo Da quello che mi avete detto siamo circa a metà gioco, o poco più avanti comunque, insomma siamo al nonno episodio Quindi pensavo di essere già verso la fine, invece sembra che non sia così, e sembra che le cose stiano iniziando a complicarsi proprio adesso Nell'ultimo episodio infatti siamo tornati all'appartamento e c'era un piccolo problema, per questo sono un po' resti a ricaricare perché stavamo morendo Sembra appunto che l'appartamento si sia infestato, quindi mi avete dato dei consigli su come agire Io credo proprio che li seguirò ragazzi, perché come mi avete detto e avete ragione, alcune meccaniche non sono per niente intuitive Quindi è molto difficile capire cosa bisogna fare per risolvere questo problema che si sta presentando nell'appartamento E mi avete dato dei consigli preziosi, quindi credo proprio ragazzi che faremo così Carichiamo, esatto siamo proprio qua, sentite che c'è uno strano ticchettio Dovuto a quell'orologio Allora quando siamo tornati l'orologio invece che essere fermo è iniziato a scorrere velocissimo In più se ci avviciniamo vedete che la nostra vita è bassissima, non stiamo più recuperando vita prima di tutto all'interno dell'appartamento Che era invece un luogo che ci garantiva una certa sicurezza perché ci curava stare qui dentro Invece improvvisamente appunto ci danneggia l'appartamento E mi avete spiegato che a causa del fatto che è infestato L'abbiamo visto bene, non ve lo faccio rivedere perché morirei Vedremo proprio il classico effetto di quando il nostro protagonista soffre della vicinanza degli spiriti Quindi vedremo tutto sdoppiato e rosso Mi avete spiegato che il modo per risolvere la questione è utilizzare l'oggetto che abbiamo trovato nello scorso episodio Ovvero la candela Allora Esatto, questa è la candela È una candela speciale con effetto anti-spiriti Se noi ce la mettiamo nell'inventario Abbiamo anche i medaglioni del santo Anche questo fanno un effetto anti-spirito In realtà, credo di essere più propensa ad utilizzare questo oggetto Ora, anche se non ho capito se il suo effetto sarà permanente Quindi se risolveremo davvero il problema Oppure la prossima volta che torneremo qui lo avremo di nuovo Dovremo affrontarlo di nuovo Fatto sta che mi avete detto che le candele invece hanno anche un'altra funzione all'interno del gioco Più avanzata E quindi credo che sarebbe un po' uno spreco utilizzare l'unica candela che abbiamo per adesso Per questo Quindi proviamo ad utilizzare il medaglione Allora Se io equipaggio questo Vediamo, eh La brutta sensazione sta sparendo Deve essere questo medaglione È bastato equipaggiarlo? Sta sparendo? Ok, non è consumabile perché c'è scritto che ha una durata Però non l'abbiamo utilizzato Ce l'abbiamo semplicemente equipaggiato Non riesco a capire bene Nel senso, ragazzi Basta non avvicinarsi all'orologio Giusto? Allora, purtroppo quello che dobbiamo fare Anche se non vorrei È curarci Ci è scesa la vita parecchio Abbiamo dovuto usare due cure Tra l'altro prenderei anche un'altra cura Per sicurezza Non mi piace per niente Perché la borsetta non è un'arma È un capo di abbigliamento femminile E solo il fatto che Eileen sia una donna Non mi sembra corretto Che lei possa difendersi solamente con questa borsetta Per quanto sia divertente Vederla arrancare con il braccio e la gamba rotte E picchiare i nemici con questa borsetta Non mi sembra molto Ok, le scarpe sì sono strane L'avevamo già visto nello scorso episodio Però niente Qui non c'è niente da fare Se adesso noi ci avvicinassimo comunque Perderemmo di nuovo la vita Quindi non si è risolto il problema Ma si è equipaggiando il medaglione Non subiamo l'effetto Perché è un medaglione antispirito Non mi è ben chiaro Se posso dirlo Ma non fa niente Andiamo Andiamo e vediamo cosa succede adesso ragazzi Perché stavamo scendendo in compagnia di Eileen Dall'ospedale Quindi sono curiosa di vedere un po' Quell'area molto molto suggestiva Che cosa abbiamo visto nello scorso episodio? Siamo entrati in questo buco Eccolo qua Che ha esplicitato un concetto Che avevamo già ovviamente ben chiaro Ovvero che La dimensione spaziale Quando noi entriamo in questo buco Non è coerente Avevamo già visto questi buchi Su pareti E poi avevamo constatato Che dall'altro lato della parete Non c'era nulla Quindi non è un collegamento fisico Con l'appartamento Ma questo mi sembra abbastanza chiaro E questo buco qui invece Lo esplicita proprio Perché va nel vuoto Però Harry quando ci entra Torna nel suo appartamento E abbiamo anche scoperto Che Eileen Non può Passare Ecco vedete Quando io L'equipaggio La do automaticamente A lei Quindi dicevo che abbiamo visto Che Eileen Non può passare attraverso il buco Anzi Non lo vede proprio Non vede il buco E stavamo scendendo Io direi che andiamo Qui c'è una nebbia Molto sospetta Mi aspetto Una fase di gioco Un po' frustrante Sinceramente Perché già Già per me Mi causa ansia Dover proteggere qualcuno Lo sapete L'ho già detto diverse volte All'interno dei giochi In più lei è ferita E penso proprio Che possa morire Quindi Sono un po' preoccupata Mi avete detto comunque Come vi stavo anticipando prima Che la candela Serve anche a curarla Quindi quando lei Subirà dei danni Accendendo la candela Non so con che cosa Perché noi non abbiamo Un accendino Non abbiamo fuoco Non abbiamo nulla Come facciamo ad accenderla Non ci ho pensato Ho guardato nell'inventario Comunque Nella panca a casa E non c'era un accendino Non l'abbiamo trovato Comunque sia potremmo utilizzarlo Per cura Mamma mia Per curarla Andiamo Ok Andiamo Eileen Andiamo in questa inquadratura Dondolante Qui Ma dove siamo? Turnstile office Oh c'è un'altra candela Candela santa Adesso però Ne abbiamo troppe Troppe Eh me lo stavo chiedendo Anch'io Chissà se lo incontreremo Joseph Il proprietario Precedente Del nostro appartamento Abbiamo visto Che questa porta È chiusa Qui aperto Stai tranquilla Ragazzi Io ho il terrore Che lei rimanga ferita La proteggerò La proteggerò A qualsiasi costo Eileen Però Stai un po' indietro Era l'ultimo? Oh guardate Ci sono quelle cose Sui muri È una specie Di cartello Ma non guardare Il cartello Informazioni Per la linea Di Lynch Street La linea Di King Street Che sia davvero La stazione Di South Ashfield Sì Siamo già stati qua Siamo nella metropolitana Oh accidenti Siamo nella metropolitana Aspettate ragazzi Dobbiamo eliminare Anche quello Eileen Allora Di là si può salire No 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 Mamma mia Guardatela Come è messa male Non lo so Ma forse Se non le togliessimo La borsetta Lei non attacca E non si avvicina Ai nemici Proviamo Non lo so Non so cosa fare Ho paura che lei Sia troppo intraprendente Anche se La vedo un po' passiva Per adesso Allora Ah sì Qua ci sono i bagni Allora Si è riempito di sangue I sughi anche qua Esatto Questo è il buco Si può entrare Si è il buco Che ci riporta L'appartamento Credo che non ci sia Nessuno qui Questo era Il posto Dove Avevamo perso Le tracce Per un attimo De Cinzia Eravamo venuti qua In sua compagnia Allora Allora noi abbiamo già La mappa Segnata Di quest'area Perché siamo già stati qua Allora Torniamo C'è la possibilità Di recuperare Gli oggetti Che avevamo lasciato Solamente che ragazzi Sono un po' preoccupata Perché noi abbiamo Due candele Nell'inventario Ma non possiamo Accenderle Non so neanche Se è necessario Accenderle C'è la possibilità È un fantasma È un cadavere No Harry No No Vieni Odimmi Sono capelli No Aspettate Ragazzi Io ho paura Io voglio Tornare All'appartamento Non mi Non mi sento pronta Devo equipaggiarmi Meglio Elin Ok Tu non entri Ah sì Allora ragazzi Entro nel buco Vado all'appartamento E cerco E cerco Gli oggetti Che ci servono Perché Quello era uno spirito E noi non abbiamo modo Di Di ucciderlo Quindi Prenderò La spada Dell'obbedienza Cercherò Se abbiamo qualcosa Per accendere La candela Ma Allora ragazzi Un secondo Perché qui è successo qualcosa No Di già Qui abbiamo La spada Dell'obbedienza Io Tolgo La borsetta Perché mi sembra Una scemata Sinceramente Non posso Metterla Qui Allora Facciamo una prova Sto salvando Perché devo capire Ragazzi La brutta sensazione Sta sparendo Deve essere questa candela Oh Cioè Ok La candela è accesa Quindi Non riesco ad aprire La finestra Niente È sparito È finito Ho dovuto provare Perché avevo il terrore Di non avere qualcosa Per accendere Invece si accende Automaticamente Qui sotto C'è qualcosa È una busta sporca Contiene una lettera E una chiave Giocattolo Una chiave Giocattolo Mamma Ti do questo Quindi Svegliati presto È dentro il mio trenino Scritto male Perché l'ha scritto Un bambino Lettera del bimbo Nell'album dei ritagli La mamma Che non si svegliava Un giocattolo Un giocattolo Un giocattolo di plastica A forma di chiave C'era una scatola Di giocattoli Nel Nel mondo Della metropolitana Ragazzi Il medaglione Si sta rompendo È destinato A rompersi Come faccio L'abbiamo tenuto equipaggiato Per tutto questo tempo Perché io Quando ho equipaggiato l'arma Pensavo si fosse tolto Invece no Può essere Equipaggiato Insieme ad un'arba C'è un ritaglio Di carta rossa Infilato qui dentro Ho trovato Due misteriosi Potenti artefatti Che sembrano essere Molto efficaci Per sottrarsi Ai fantasmi vittima La candela E il medaglione del santo Si ma ragazzi Me lo spiegavano Sono stati tranquilli Bastava leggere Io pensavo fosse una cosa Più difficile Da intuire Invece no La spiegano abbastanza Oltre ad essere Molto efficaci Contro i fantasmi Vittima dell'altro mondo Quindi come quella ragazza Che abbiamo visto Quello con i capelli C'erano tutta una scena Di capelli neri Che portava fino al suo cadavere Sembrano anche impedire Che questi invadano Il mio appartamento Quindi possiamo utilizzarle Nell'appartamento O contro quegli spiriti Che incontriamo nel mondo Il problema è che Se io metto una candela Per terra Cioè cosa succede A quello spirito? Forse contro quelli È più efficace Il medaglione Basta accendere La candela Vicino al posto Dove entrano E si attiva Il suo potere divino Se indossato Equipaggiato Il medaglione del santo Sembra respingere L'energia malefica Inizio a nutrire Speranze 25 luglio Allora Magari funziona Quindi non ci fa Diciamo Quell'effetto Che ci intontisce Però Come facciamo Ad affrontare il fantasma? Io ho preso La spada dell'obbedienza Perché ho pensato Che dovessimo Tenerla ferma Io ho preso Anche l'altro medaglione Ragazzi Perché ho paura Io ve lo dico Ho paura E tra l'altro Mi fa pensare Che se utilizzo Malle risorse Succede un disastro Allora Adesso proviamo Ad affrontarla La prenderemo Ad accettate Tenendo equipaggiato Il medaglione Dopodiché La fermeremo Con la spada Dell'obbedienza Proviamo Vieni qua Ragazzi Ragazzi Dov'è Eileen? Ho sbagliato Ho cambiato Aria Maledizione Ah eccola È lei Ti è rotto E adesso Iniziamo a sentire L'interferenza Che ci fa Calare la vita Tra l'altro No ragazzi Io Non so come spiegarvelo Io Da ragazzina Sono rimasta Cioè ho subito Un trauma A causa del film The Grudge Non riesco Quante volte dovrò Stenderla? Sto facendo una prova Assomiglia Assomiglia A quella A quella donna Di The Grudge Ragazzi Io Continuo a colpirla Devo capire Al massimo Ci rimaniamo secchi Una volta Non so dove è finita Eileen Ah sono rimasta Gattrata Usa i capelli Per prenderci No ragazzi Cosa sto facendo È brutta È bruttissima Ragazzi Io tra l'altro Ho perso Eileen Eileen Ma dove Dove eri finita? Non riesco A sbarazzarmi Di quel nemico Penso che Ci dovrò morire Una volta Per capire Non riesco a capire Magari Le stiamo facendo Troppo poco danno Mi sto curando Apposta Perché Cioè Secondo me Si è alzata Troppe volte Veramente Non Ok Siamo morti Stavo cercando Praticamente Di farle perdere I sensi Che schifo Mamma mia È inguardabile Stavo cercando Di farle perdere I sensi Ah ma siamo qua La mia speranza Era che lei Perdesse i sensi E poi potessimo Trafiggerla Con la spada Dell'obbedienza Però L'ho stesa Non so 20 volte Continuava ad alzarsi Allora 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 Come stanno Le cose Abbiamo provato A sbarazzarci Di quella Terribile Di quel Fantasma Orribile Ragazzi Però Non ci sono riuscita Perché l'ho stesa L'ho stesa L'ho stesa Tante volte E non è servito A nulla Quindi Quello che io vorrei fare È Passarle oltre Abbiamo anche rotto Un medaglione Andiamo Vieni Io non mi ricordo Da che parte Bisogna andare Ok Ragazzi Quello che sto cercando Di fare Anche se Non so Se lo sto facendo In modo corretto È Andare A cercare La scatola Che avevamo trovato La prima volta Che siamo stati In questo mondo Brava Si mette Dietro di me Quella Dei giocattoli Perché adesso Abbiamo la chiave Per aprirla Secondo me Solamente Che ragazzi Oh C'è una cura Non mi ricordo Come si scende Ho il terrore Di quella Di quel Fantasma Aspettate Dov'è che siamo Qui ci sono Delle scale La porta È chiusa A chiave Qui ci sono Delle scale Sì Erano qui Erano qui Le scale Dove c'è Il fantasma Ma dov'è Lynn Mamma mia È chiuso Mi occorre Una moneta Serve la moneta Ma noi la moneta Ce l'abbiamo A casa Giusto Ragazzi Provo ad andare A prenderla Non so che cosa dire Quel fantasma Davvero Non riesco A stenderlo Quindi lo lasceremo Vagare Per la mappa A meno che non troviamo Il modo Moneta Ok Il medaglione del santo Che si sta Rompendo Questa non serve a niente Questa Ne teniamo solo una Adesso con la moneta Dovremmo riuscire Ad aprire il tornello E andare giù Perché mi sembra Che era proprio là sotto Che c'era Quella scatola Era dentro Nel treno Era una scatola Di giocattoli Mi sembra Se mi ricordo bene E siccome questa È una chiave giocattolo È dentro Al mio trenino Diceva il bambino Quindi sì Dentro al treno Ma proprio qua Devi stare È proprio qui davanti Non me lo uso Non possiamo passare Da questa parte Ok Perfetto Allora proseguiamo Di qua Dove c'è questo Vermone schifoso Vediamo se dice qualcosa Però reagisce Ragazzi Certo Non possiamo Ucciderlo Però Dobbiamo Passargli dietro Tra l'altro Sembra quasi Non lo so Mi dà l'idea Che vogliono Farci intuire Che è lui A scavare i buchi Che percorriamo Vedete Dovrei poter arrivare Alla strada Da questa parte Ma è un vicolo cieco Ma dov'è che dobbiamo andare Allora Secondo me La soluzione È dove c'è quel fantasma Però non la troviamo Perché non abbiamo il tempo Di esplorare per bene Perché appunto C'è il fantasma Che ci infastidisce L'abbiamo usato Ma Aileen Cioè ragazzi Non lo usava Prima Ok Non ero posizionata bene Si vede Ok Stiamo scendendo Per fortuna Il fantasma Ha deciso di lasciarci Un attimo in pace Ok Vediamo se ci ricordiamo Dovevamo scendere Due volte Per andare alla metropolitana Se non sbaglio È lì Guardate Non è questo? C'è un baule di giocattoli Qui c'è scritto sopra Mille E quel numero strano Ho chiusa chiave Non riesco ad aprirlo È questo 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 Mamma mia È dall'inizio del gioco Che aspetto questo momento C'è una moneta Giocattola sporca Nella scatola Moneta sporca È imbrattata Scommetto che la posso pulire Nel lavandino Nel lavandino della cucina Del mio appartamento Ok Oh no È qui Vieni 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 Ilin Scappiamo Ilin Ci segue Ma è sempre lei? Come ti permetti di puntare a lei? Vergogna Lì vedo qualcosa Non si muove bene il personaggio Ragazzi Ok Qui mi ricordo C'erano quegli strani manichini Uh Adesso c'è qualcosa C'è Un frustino Da cavallo Qui Sì Frustino Non è possibile È leggero È facile da usare Con un buon raggio D'azione Può fare molto male Al frustino Come arma Lei Veramente Eilin Uh Ma là c'è un'altra bevanda Ma qui non c'è niente Perché a me sembrava un biglietto Quello Un frustino da cavallo Ma che cosa Allora Adesso il punto È che noi Saliamo E là c'è ancora Quel fantasma No Ascolta Andiamocene Vieni 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 Andiamo Andiamo Allora La cosa che faremo adesso Quello che faremo adesso È tornare all'appartamento Ragazzi Andiamo qui E proviamo a vedere Che cos'è la moneta Che abbiamo trovato Allora È un po' frustrante Il fatto Di non riuscire A sbarazzarsi Di questi Di questi Fantasmi Eh ragazzi Io davvero Continuerei a stare lì A picchiarla Ma va a finire Che perdo un sacco di vita Per niente Perché non riesco A A metterla fuori gioco Abbiamo trovato Un altro biglietto Di Joseph Qualche giorno dopo Di aver trovato segni Di qualcuno Che è stato lì dentro È venuto qui Quell'uomo Allora Questo è il lavandino Noi ci posizioniamo Proprio di fronte al lavandino E utilizziamo la moneta Per lavarla No Allora Posso lavare la moneta Grazie Moneta sporca Con dell'acqua Hai la moneta Uno Otto Moneta giocattolo Con sopra scritto Uno E quel simbolo Forse qualcuno Voleva scrivere Un dollaro Ah Serve per la macchinetta Dobbiamo tornare là No No Ragazzi Cioè Io mi rifiuto Di darglielo Ops Io lo metto giù Questo non mi serve I proiettili Non mi serve Allora Per fortuna Non è successo niente All'appartamento Forse l'hanno visto Spostare qualcosa Di pesante Cosa stava facendo Nel nostro appartamento Visto che ci siamo liberati Un po' l'inventario Mi rimetto per sicurezza La spada Dell'obbedienza Perché Mi sembra troppo strano Non potermi sbarazzare Di quel nemico Ragazzi Che poi è un po' Difficile gestire Eileen Perché non ha Un'intelligenza Artificiale Lei si Si incastra Un po' E che io avrei La tentazione Per esempio Di andare da quello Spirito lì E mettere giù La candela Però Se poi La spreco Non posso mica Tirarla su Allora Da quello che ho capito La monetina Giocattolo Dobbiamo utilizzarla giù Non so se ve lo ricordate Ma c'era una macchinetta Che distribuiva Non so bene che cosa Che aveva lo stesso simbolo Che è un simbolo di dollaro Scritto male Da un bambino L'abbiamo capito adesso Sopra In rosso Ed era questa Mi sembra Sì Questa È uscita dal distributore Automatico È la chiave Del luogo Del delitto È la chiave Del distributore Automatico Dice luogo Del delitto No ma È qui Ma come faccio Ecco Ragazzi io provo Io la uso Io voglio vedere In teoria Questa è la cura Giusto? La candela Si consuma Vedete? Oh Ha funzionato Ma sarà stato Per via Della Della candela Eline Spostati da lì Allora Non lo so Se ho fatto bene Ragazzi Tra l'altro Qui Harry Si è buggatissimo Non vuole proseguire Non lo so Se ho fatto bene A usarla La candela Ma io non ho capito Di qua possiamo andare Oh Ne abbiamo trovato Un'altra Ok Di qua si può andare Si scende Però controlliamo Un attimo meglio Il treno Possiamo andare Su quest'altro Qui c'è un medaglione Perfetto Ragazzi Allora dobbiamo andare Da questa parte Me lo ricordo Qui si scendeva Scendiamo con Eileen Oh c'è un video È andato da solo? Non mi piace Doverla lasciare Sola però No Veramente No Oh mio dio Oh mio dio No Lasciatemi Via 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 Oh mio dio Mi curo Ai 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 La vedo durissima qua Si qua Siamo già stati C'è una sporgenza In cui qua Ah me la ricordo Questa cosa C'è una sporgenza In cui questa manovella Che funziona anche Da chiave Entra Credo di poterla Spostare questa carrozza Se solo avessi Una manovella Del treno Attraverso il finestrino Del conducente Vedo della luce Entrare dal lato Della galleria Mi ricordo Serve una manovella Del treno Però Allora Là c'è un buco E qua c'è la scala Che sale Oh accidenti Non ci posso credere Che siamo di nuovo qua Aiuto Quanto li ho prese Qui Quanto li ho prese Ecco Per fortuna Vanno giù con un colpo solo Li attiriamo Poi facciamo così E così Via Ai Harry No erano molti meno Ok Adesso siamo dall'altra parte Però abbiamo lasciato Di là Eileen Cioè dov'è Eileen Ragazzi Io Non voglio che stia Così lontana da noi Sono preoccupata Ok questa era la cura Che vedevamo Dall'altra parte Ma la ritroveremo Eileen Non è che Ci hanno fatto separare Per Farla morire Esatto Noi siamo qui Alla scena del delitto Ah ok ma queste Appunto ma qui è morta Cinzia Io non capisco C'è un bigliettino Non era Cinzia Quella aveva i capelli Questo era di Cinzia Vuoi prendere la tessera Della metro di Cinzia? Sì È la tessera Della metropolitana Per le linee di King Street E Lynch Street Può essere usata Più volte Cinzia ha lasciato Ha lasciato dietro Tutte queste cose Sì quando è morta Sono cadute tutte le cose Ma quindi Quel fantasma è suo? I fantasmi Sono le vittime? Sapete che abbiamo visto Che un modello Del fantasma Era Quel ragazzo Jasper Che assomigliava L'abbiamo detto Come una battuta Potrebbe essere Che i fantasmi Che incontriamo Sono le vittime Numerate Ho usato la chiave Luogo del delitto Esatto Questo è il luogo del delitto Dove è morta Cinzia Mamma mia Cos'è? Ah Che ci fa qui? Una manovella del treno Manovella del treno Della linea di King Street È come una chiave Che serve per far funzionare Il treno Perfetto Molto semplice Dobbiamo andare là Allora Allora In realtà Mi piacerebbe evitare Di fare di nuovo Questa strada Però Aiuto ragazzi Ma sta diventando Molto più difficile Il gioco Qui ci sono le grate Quindi non può Succederci niente Ok Qui non vedo cure O cose strane Ci sono un sacco di fantasmi Secondo me Torniamo un attimo Non mi piace lasciare Tutto questo tempo Ilinda sola Non so dov'è Speriamo Che sia stata ferma là Quindi vabbè Abbiamo scoperto Che le candele si consumano Però un tentativo Andava fatto E la nostra spada È ancora là Bisogna andare a riprenderla Questo non ho capito La tessera Della meliotropolitana Per le linee di King Street E Lynch Street Può essere usata Più volte Quindi posso mettere Giù i gettoni Non mi è chiaro Siccome ho il dubbio Non lo faccio Non lascio giù i gettoni Allora Allora Esatto Ok Finalmente Siamo riusciti a farlo La carrozza È avanzata Di circa Una lunghezza E quindi Ora siamo A livello Del buco Però se noi Usciamo Siamo in una nuova area Eh sì Un'altra Un'altra Non posso abbandonare Eileen Bravo Dobbiamo andare a prenderla Ok Come facciamo? Credo che dobbiamo Utilizzare la tessera Per passare Dal luogo del delitto Aspettate Perché non è semplicissimo Orientarsi qua per me Questa la lasciamo Nel suo brodo Ancora per un po' Eileen Però non vedo la barra Della vita di Eileen Come faccio a sapere Se si è curata? Perché mi avete detto Che le candele La curano Però Secondo che principio Come faccio a capirlo? Allora Se io utilizzo La tessera qua Giusto per capire Aspettate Sì La tessera di metro Di Cinzia Apre sia questo Che quello Dall'altra parte Quindi se io vado qua Qui di fronte Utilizzo la sua tessera Possiamo passare Con Eileen Di qua Lo so che non è bello Eileen non guardare Vieni Cioè dobbiamo farla con lei? Vieni Eileen Vieni Ormai la conosco a memoria Vieni cara Poi sicuramente C'era un giro più semplice Che mi sta sfuggendo Volete vedere? Non possiamo permetterci Di sbagliare Non la devono toccare Vieni Eileen Corri Eileen Eileen No Stai tranquilla Vieni Stammi vicino Qua Aiuto Vieni Corri Corri Ci abbiamo fatto Allora Allora Adesso andiamo a fare un giro Sul treno Vieni Esatto Qua Vieni Vieni Eileen Allora Qui c'è una porta E stavolta La apre Prima si rifiutava di andare Perché doveva Farlo con Eileen Ragazzi Mi sono sfuggendo Tanto Tantissimo No Aspetti Aspetta No 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 Ma stiamo scherzando No scusa eh Non mi sparare Ma che cazzo No ma lo scherziamo eh Ma no ma con questo gameplay Non è fattibile Ma non hai No Vieni qua No ragazzi Veramente Ragazzi Moriremo Moriremo No ma che cosa sto Ma che trash Muori Ascolta Veramente Sì Bravo Muori Muori Dio Usala Usala Capisci Ragazzi Sarà morto Non è morto Andiamo 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 Mi sono spaventata Perché non mi aspettavo Che mi aggredissero In quel modo No Dobbiamo Dobbiamo tornare A prendere le cure Vi prego Il buco Sì Eileen Eileen La paranoia Veramente Oh mio dio Che spavento L'abbiamo ammazzato Il suo corpo Si muoveva ancora Non lo so Quando fanno così Fantasmi Non sono morti Comunque io ho provato A infilzarlo con la spada Dell'obbedienza Ma non ha funzionato Mi sono davvero spaventata Ma che vile Cioè così Alle spalle Mentre camminavamo Ho bisogno di una cura Ho bisogno di una cura Anche due Non so neanche Se torneremo Nella metropolitana Però la tessera Me la tengo Che è più comoda E secondo me Per oggi Dovremmo fermarci Abbiamo davvero esagerato Siamo stati aggrediti Dall'uomo col cappotto Che io avevo ipotizzato Fosse Walter Sullivan Ha cercato di Non ce l'aveva con noi Non con Eileen Cioè Eileen mi sembra Che l'abbia Completamente ignorata Però mi viene un po' l'ansia Pensare che adesso Lei è là Cioè sono davvero Preoccupata per lei Mi sta piacendo molto Anche il fatto Che dobbiamo Riesplorare l'aria Con lei La limitazione Poverina Che è ferita Gravemente Non ho capito bene Appunto Questa cosa Dei fantasmi Perché il fantasma Che abbiamo Affrontato Quello che occupava La metropolitana Che ancora rimane Fermo Infilzato Con la spada Dell'obbedienza Si è alzato Proprio dalla scena Del delitto Di Cinzia Quindi mi fa pensare Che abbia un collegamento Anche perché il vestiario Lo ricorda Però ha quei capelli Mamma mia ragazzi Davvero mi ha ricordato De Graggi In un modo Il mio trauma Dell'adolescenza È stato terribile Mi ha terrorizzata Poi quando mi strisciava Gattonava Utilizzando anche le braccia No no È stato bruttissimo L'unica cosa Appunto Vabbè C'è un po' di Un po' di Sessismo Direi Piuttosto palese Messo anche un po' Sull'ironia Però Il fatto che Eileen possa Utilizzare come armi Solo la borsetta Il frustino Cioè Mi ha lasciato davvero Sconvolta Senza parole Noi abbiamo Un sacco di armi Abbiamo talmente Tanti ferri Da golf Che non sappiamo Che cosa farcene E lei non Non li utilizza La sua camera Rimane In qui È tantissima Come sempre Ho visto tra l'altro Che vendono Come gadget Quei pupazzi Di Silent Hill Non so Chi se lo metterebbe Mai in casa Una roba del genere Veramente E niente Continueremo Nel prossimo episodio Adesso siamo riusciti A sopravvivere Sia all'infestazione Dell'appartamento Che Ai fantasmi Nei mondi Però ragazzi Nonostante i consigli Che mi avete dato Alcune cose Non le ho Ben chiare Non si può più Guardare L'orologio Non dice niente Poi c'erano Le finestre Che Si scuotevano Qui vedo Che è tutto Normale Forse è sera Non so Se era mai stata O sera Il giorno Sta scorrendo Niente ragazzi Direi che ci fermiamo qua Davvero Sono molto molto curiosa Di vedere come va avanti Sono anche molto contenta Del successo Che questa serie Sta facendo Perché ho visto Che siete davvero entusiasti Sia chi Conosce Silent Hill E quindi apprezza Questo titolo Ma soprattutto Quelli che non lo conoscono E si stanno chiedendo Con me Che cosa sta succedendo In questo gioco Quindi sono davvero contenta Dei commenti Che mi lasciate sempre Vi ringrazio tutti E ci vediamo La settimana prossima Grazie Ciao a tutti